Ciao ragazzi, qui Lorenzo Miglietta di Grafigata.com e questo è un nuovo episodio di TypoStory, storie sulla grafica e la tipografia. E oggi parliamo di due dei font più famosi al mondo che sono stati creati nello stesso anno a pochi chilometri di distanza. Ma lo sapevi che due dei font più famosi al mondo sono stati creati nello stesso anno e a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro? Si tratta dell'Universe, un font progettato da Adrian Fruttiger a Zurigo in Svizzera e dell'Elvetica, un font progettato da Max Meidinger a Basilea, sempre in Svizzera. E entrambi sono stati progettati nel 1957. Ma non sono solo progettati nello stesso anno, sono anche molto, molto, molto simili tra loro. Sono infatti due font neogrotteschi, cioè quei font di anni 50-60 in poi, ispirati ai font grotteschi, quelli che invece furono i primi sans serif, verso la fine dell'Ottocento. E in particolare sono entrambi, appunto, ispirati all'Accidence Grotesque, che fu uno dei più famosi e più noti caratteri sans serif grotteschi di fine Ottocento. Le due fonderie, cioè le due aziende di caratteri tipografici che li hanno inventati, li hanno progettati e li hanno pubblicati, erano competitor tra loro. Cercavano di rubarsi a vicenda i clienti, la fetta di mercato. L'Elvetica venne creato dalla fonderia Haas e per loro fu quasi una mossa disperata. Stavano perdendo fette di mercato, stavano rischiando addirittura di fallire proprio come azienda. L'Elvetica, in un certo senso, li salvò. Ma all'inizio il successo dell'Elvetica fu moderato. Si chiamava Neur Haas Grotesque, proprio per raccontare la sua origine, il suo essere una nuova versione dei font grotteschi di fine Ottocento. E tra i competitor principali dell'Elvetica c'era l'Universe, che era stato creato in realtà pochi mesi prima dalla fonderia de Bernier-Pegnot. E su questo font venne fatto un marketing veramente molto, molto molto spinto da parte di questa fonderia, perché infatti fu uno dei primi font nella storia ad essere in realtà una famiglia di font, cioè a presentarsi al grande pubblico come un insieme di pesi diversi progettati coerentemente tutti insieme. Ogni peso era visivamente coerente all'altro, quindi la versione bold trasmetteva le stesse cose della versione roman e aveva una grande, grande variazione di pesi. Fu un'innovazione veramente, veramente pazzesca e per l'epoca ci fu anche un marketing bello spinto, trattandosi di tipografia di font. E infatti nei primi anni l'Universe ebbe un successo enorme, venne usato ovunque, venne adottato da tantissime stamperie in tutto il mondo. Poi nel 1960 la Haas decise di cambiare nome al suo new house grotesque e decise di chiamarlo Elvetica. Fece una sorta quindi di rebranding e ripropose l'Elvetica al mercato internazionale con un nuovo nome che ammiccava allo stile che andava di moda all'epoca che veniva anche chiamato appunto design svizzero. E diciamolo chiaramente, questa mossa di rebranding, questa strategia di marketing fu una mossa perfettamente riuscita. Ci riuscirono infatti a rendere l'Elvetica un font largamente utilizzato, famoso nel mondo, anzi forse uno dei più famosi, forse il più famoso. Da quegli anni in poi, per tutti gli anni 60 e fino ad oggi, l'Elvetica iniziò ad apparire ovunque. Nei loghi di grandi aziende, nelle fiancate degli aerei, nelle insegne dei negozi, nelle metropolitane, nei segnali stradali, fu ovunque. Potevi probabilmente girare una qualsiasi città occidentale e anche oggi probabilmente puoi girare una qualsiasi città occidentale e nell'arco di una giornata ti potresti imbattere nell'Elvetica almeno una decina di volte. Perché secondo me l'Elvetica è il font perfetto per sembrare fighi, sembrare di design, senza in realtà progettare niente di che lato tipografico. È un font infatti totalmente neutrale, totalmente, se vogliamo, anonimo, asettico e lascia trasparire quindi tutto il design. Quindi se tu vuoi comunicare attraverso un font che non trasmetta alcun umore, non trasmetta alcune emozioni, l'Elvetica è perfetto. fai raccontare tutto al resto della comunicazione, quindi alle immagini, alle fotografie, ai colori. Adrian Fruttiger, che è il type designer del suo competitor, del grande competitor dell'Elvetica, l'Universe, ha descritto la differenza tra Elvetica ed Universe nella maniera perfetta, secondo me. disse che l'Elvetica era come un paio di jeans, mentre l'Universe è uno smoking. Perché non c'è dubbio, l'Universe è più elegante, l'Universe è più di classe, l'Universe ha una qualità tipografica, secondo me, maggiore, ha delle rifiniture più dettagliate, racconta qualcosa in più, pur rimanendo comunque nell'ambito dei font molto asettici, molto neutrali. L'Elvetica invece è veramente come un paio di jeans, chiunque lo può mettere, chiunque può indossare un paio di jeans, così come chiunque può utilizzare l'Elvetica e comunque stare bene, fare la sua bella figura. E direi che questa differenza fa capire perfettamente quando usare l'Elvetica e quando non usarlo. Se tu vuoi fare un design che dal punto di vista della tipografia si distingua, emerga, comunichi qualcosa in modo molto preponderante, non potrai mai usare l'Elvetica, ma in realtà non potrai mai neanche usare l'Universe. Diciamo che sono font molto neutrali e come detto devono essere utilizzati in ambiti ben specifici. Fammi sapere qui sotto se sapevi tutti questi argomenti e se ti piacerebbe vedere altri video come questi in cui racconto storie di grafica, storie di tipografia, storie di design. Mi raccomando se questo video ti è piaciuto fammelo sapere qui sotto nei commenti, schiaccia il pulsante di mi piace e se ancora non sei iscritto iscriviti al canale e schiaccia la campanellina per ricevere una notifica a ogni nuovo video. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.